Un'altra vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata Trinacria, condotta dai carabinieri, ha interessato ancora il territorio del comune di Petrosino nei giorni scorsi. Il crescente allarme sociale, generato dall'aumento di reati contro il patrimonio registrato nel corso degli ultimi mesi, ha richiesto l'intervento massiccio delle forze dell'ordine che hanno dispiegato oltre 40 carabinieri effettivi alla locale stazione, al nucleo operativo e radiomobile di Marsala e alla compagnia di intervento operativo della Legione Sicilia, con pattuglie inviate di rinforzo su richiesta del comando provinciale di Trapani. A finire, nella rete dell'arma, questa volta è stato un noto pregiudicato marsalese di 40 anni, detto King Kong, molto temuto dalla popolazione petrosilena, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Marsala da circa dieci giorni, durante i quali lo stesso si era reso irreperibile. L'uomo, dopo incessanti ricerche, è stato trovato presso l'abitazione di un parente e dopo l'arresto è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Un altro soggetto tratto in arresto perché gravato da ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Trapani è un marsalese classe 90 che deve scontare cinque anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Nel medesimo contesto operativo sono stati denunciati sei soggetti per vari reati, Un pregiudicato 28enne trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato della lunghezza di 20 centimetri. Un pregiudicato di 42 anni, oltre ad essere in possesso di un coltello a serramanico, è stato sorpreso a detenere della sostanza stupefacente del tipo hashish. Un altro pregiudicato marsalese di 36 anni è stato denunciato per ricettazione di un'auto risultata rubata. Un giovane classe 2001, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all'assunzione di droga, rimediando il massimo della pena. Infine, due marsalesi minorenni sono stati denunciati per resistenza pubblico ufficiale, in quanto non si sono fermati all'alt intimato dai militari operanti.